Pensiero del giorno. Sono connesso per sempre al cielo, perché sono legato a ogni cosa. Quando mi focalizzo sulla mia unità con gli angeli, posso ascoltare meglio i loro amorevoli messaggi. Sono tutt'uno con l'amore di Dio. Sappi che siamo tutti connessi. Noi angeli siamo connessi a Dio, a te e a ogni essere senziente. Lo stesso spirito d'amore ci lega tutti, completamente e per sempre. Più ti rendi conto di questo fatto universale, più sarà facile per te ascoltare i nostri messaggi. L'unica ragione per cui a volte ti sembra di non sentirci è la convinzione che siamo separati da te. Ricordati durante la giornata che sei eternamente connesso a Dio e a noi. Inoltre sei legato a tutte le persone che incontri, che a loro volta sono unite al cielo. L'amore scorre attraverso questa rete di connessione. Più ti rendi conto che siamo un tutt'uno, più sentirai questa corrente di affetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.